Grandi disuguayanze crescono. Il titolo del rapporto Oxfam sulla distribuzione della ricchezza nella popolazione mondiale, una ripartizione segnata da crescenti disparità. I numeri parlano chiaro. Nel 2014 il 48% del patrimonio mondiale era in mano all'1% della popolazione, un'elite che poteva contare su una media di 2,7 milioni di dollari a testa. Del rimanente 52% della ricchezza globale, quasi tutto era in mano a un quinto della popolazione più agiata, mentre il restante 5,5% rimaneva disponibile per l'80% del resto del mondo, vale a dire 3.851 dollari a testa, 700 volte meno della media detenuta dal ricchissimo 1%.